Anche Gela accoglie le reliquie di Santa Rita da Cascia, tre giorni intensi per i fedeli che venerano la taumaturgica santa. Il reliquiario quest'anno sta visitando le chiese dove è presente la devozione alla santa delle cose impossibili. Il programma gelese è il seguente. Domani, venerdì 14 ottobre alle 17, le reliquie arriveranno nella parrocchia Santa Maria di Betlemme in via Albinoni, Angolo Vico, Maria del Monaco. Saranno presenti autorità politiche, civili e militari. Alle 17.30 è prevista la venerazione con canti e coroncina animata dal parroco Emiliano di Mensa. Alle 18.15 il santo rosario e preghiere della santa. Alle 18.30 solenne celebrazione eucaristica preseduta dal parroco Giovanni Tandurella. Alle 20 supplica Santa Rita e benedizione delle rose. Il giorno dopo, sabato 15 alle 9, si darà il santo rosario e preghiere proprie della santa. E alle 9.30 la messa con la benedizione delle rose e suppliche a Santa Rita. Lo stesso giorno le reliquie saranno accolte nella piccola casa della misericordia, istituto Regina Margherita. L'appuntamento è previsto per le 16.30. Seguirà il breve peregrinaggio giubilare verso la chiesa di Sant'Agostino. Alle 18.00 si darà la solenne celebrazione eucaristica preseduta da don Antonino Rivoli, vicario generale della diocesi di Piazza Almerina. E alle 20.30 una veglia di preghiera animata dai giovani che sarà preseduta da don Lino di Dio, rettore della chiesa. Domenica 16 ottobre alle 9 e alle 11.00 celebrazione eucaristica. E alle 11.30 Santo Rosario in onore di Santa Rita e la supplica con il congedo. Dopo ogni funzione liturgica sarà possibile venerare la reliquia della Santa di Cascia, esempio di misericordia e di perdono.